Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi vi racconto un pochino tutte le cose che ho visto, tutte le serie tv soprattutto, ma non solo, che ho visto negli ultimi mesi. Ultimi mesi significa almeno 6, perché era un bel po' che vi facevo un update corposo e io guardo tanti prodotti televisivi, soprattutto serie tv, quindi ci sarà un bel po' da raccontare, quindi insomma giù nell'infobox ve lo giuro, proverò a mettere il timestamps in modo che vi posso dire quali sono le serie che ho visto. Cercherò di raccontarvi un po' tutto quello che ho visto in modo da farvi capire se mi è piaciuto, se non mi è piaciuto, se ne vale la pena, se non ne vale la pena, su alcuni magari mi soffermerò un pelo di più, cercherò però insomma di esplorare tutti. Preparatevi, preparate la tazza di tè oppure mettetevi a fare pulizie, cucinare, cose che dovete fare perché sarà ovviamente un video abbastanza lungo, come sempre, va bene, direi di iniziare e quindi partiamo con La prima serie che ho visto si tratta davvero di un pacco di tempo fa e infatti parliamo degli ultimi zar, i Romanov, che trovate su Netflix. Ovviamente è una serie che ripercorre gli ultimi momenti della famiglia Romanov, in particolare dedicato ovviamente alla famiglia di Nicola II e se diciamo che mentre il mondo è scosso da cambiamenti sociali molto importanti, la Russia rimane in quel periodo dove sembra quasi cristallizzata all'inizio dell'Ottocento, insomma non riesce a smuoversi da quella situazione lì. E quindi seguiamo da un lato questo aggravarsi ed evolversi della situazione sociale e chiaramente ciò che succede nel palazzo, nei palazzi, anzi per essere abbastanza precisi. E ovviamente seguiremo anche l'epilogo, quindi l'avvento della prima guerra mondiale, la decisione forse nata di Nicola di partecipare attivamente e ciò che porterà ovviamente alla trasmigrazione della famiglia a Decaterinburg e poi la successiva uccisione. C'è di mezzo anche ovviamente la questione Rasputin, c'è di mezzo un po' tutto. Allora, io personalmente mi ritengo abbastanza esperta di questo ambito storico perché sono molto legata in generale alla famiglia russa, alla questione della rivoluzione russa, eccetera, eccetera. E da un lato, quindi insomma, ero curiosa di vedere un prodotto che potesse parlare di questo periodo storico che io amo molto da un lato perché lo trovo uno dei più sconvolgenti, raccapriccianti, ma anche significativi della storia, sia del Novecento che di tutto ciò che avverrà nelle fasi successive, eccetera. So che c'è questa fascinazione super ossessiva per la storia di Anastasia e compagnia e in realtà la famiglia russa, secondo me, è molto interessante non nella figura di Nicola perché io lo trovo un re fondamentalmente, anzi uno zar fondamentalmente incapace e davvero poco interessante a livello personale. È più interessante ciò che gli succede, è più interessante ciò che gli succede attorno, ma soprattutto è molto interessante anche il risvolto quasi mitologico che assume la sua famiglia, mentre invece nei Romanov ci sono persone super interessanti a livello di regno, a livello di riforma, a livello di un sacco di cose, parto da Caterina alla Grande, Pietro il Grande, insomma tutto quel filone Romanov lì che era decisamente più interessante, però a livello di risvolti sulla storia contemporanea e soprattutto sulla storia russa è chiaramente, vabbè. Ma comunque io sto dilagando per l'anima del, perché dobbiamo parlare dei Romanov, cioè la serie tv. Allora, questa serie tv indaga a metà tra ricostruzioni storiche, ma anche una grande parte un po' romanzata, molto legata soprattutto alla vicenda di Anastasia, cioè si ripercorre filone del forse l'abbiamo trovata in un manicomio, come è successo a diverse figure che sono state per lungo tempo considerate delle probabili Anastasia, eccetera, eccetera, e da lì ci sono dei flashback, ci sono delle ricostruzioni storiche che portano fondamentalmente a ripercorrere i passi, dal, diciamo, dall'unione tra Nicola e Alexandra e poi ciò che avverrà dopo, quindi la costruzione della famiglia e nel frattempo ciò che succede a livello sociale, che ovviamente è importantissimo e però viene davvero molto lasciato in secondo piano e poi successivamente c'è tutta la questione dell'adesione alla prima guerra mondiale, la decisione di scendere in guerra con l'esercito russo in condizioni che ovviamente conosciamo bene, se abbiamo studiato un po' storia e poi ciò che porta ovviamente alla rivoluzione, alla fase dove vengono destituiti, vengono portati ovviamente a Decaterinburg e cosa succede a Decaterinburg? Devo dire che in tutto ciò a me non ha fatto impazzire anche se l'ho trovato comunque piacevole per certi versi, trovo che sia molto piacevole dal lato visivo da un certo punto di vista perché i costumi sono davvero molto belli, apprezzabili, c'è anche una componente familiare un po' più emotiva, molto accennata che per chi ama questo tipo di approccio trovo molto funzionale soprattutto in una serie di ricostruzione storica di questo tipo ecco, il tema è che tutto il resto secondo me non funziona nel senso che anche soli i moti rivoluzionari vengono banalizzati in una maniera molto fastidiosa per me nel senso che si può pensare a quello che si vuole della rivoluzione russa, dei bolshevichi chiaramente dell'avvento al potere, del totalitarismo che porterà alla creazione dell'Unione Sovietica però il movimento che lo ha scatenato è un movimento che parte ovviamente da delle condizioni sociali che erano veramente tremende, erano veramente ai limiti della disperazione umana e io ho trovato tutta questa parte molto molto ridicola le sollevazioni popolari, le loro motivazioni sono molto poco indagate avvengono e c'è sempre questa visione come, non dico quasi povera famiglia Romano perché in fondo non lo sono, ricordiamoci ed emerge anche abbastanza bene l'incapacità di Nicola emerge bene la sua negazione totale della situazione esterna al quasi non volerlo accettare perché accettare significherebbe fare i conti con la propria incapacità e questo secondo me emerge però diventa un percorso unicamente interno allo zar e che non si confronta mai con le condizioni esterne che invece sono quello che è importante di tutta la rivoluzione russa al di là del fatto che sia affascinante percorrere i palazzi sia affascinante la questione familiare vabbè, ho trovato molto realistica la questione di Ekaterinburg per alcuni versi perché ricostruisce alcune parti della storia che non sono sempre molto presenti nelle ricostruzioni storiche però diciamo un buon tentativo di intrattenimento che però ripercorre un po' gli errori che sono sempre stati fatti in passato secondo me sulla ricostruzione di questo momento storico quindi morale della favola a me non è dispiaciuto perché io sono molto fissata con questo aspetto della storia quantomeno contemporanea però devo dire l'ho trovato comunque un po' pigro e un po' troppo romanzesco diciamo che è un po' l'ennesima ricostruzione for Dummies per chi ha amato Anastasia per chi non ha alcun interesse più di tanto o almeno non trova il punto focale in Anastasia nella figura di ammitica quasi troviamo Anastasia, ricostruiamo la famiglia, riportiamo l'impero cioè diciamo che non aggiungerà nulla non vi darà nulla di più è solamente piacevole se vi piace, se avete questo tipo di passione come ho io mettetela su arriviamo ad una serie che invece a me è decisamente piaciuta moltissimo ovvero The Boys che trovate su Amazon Prime è tratta dalla serie fumetti di Garth Ennis che è una vera e propria opera di culto praticamente alla base di questa serie c'è un interrogativo ovvero cosa succede quando i supereroi arrivano al punto da non percepire più alcun limite alla propria azione e commettono crimini per i quali non pagheranno mai infatti nella serie tv noi seguiamo le vicende dei sette ovvero questo gruppo di supereroi messi insieme da una corporation cioè la Vogue International che lì proprio che li gestisce e li governa decide cosa devono fare e segue la loro immagine pubblica coprendone anche molto spesso le malefatte e soprattutto cercando di nascondere i crimini che hanno commesso Starlight è la nuova arrivata nei sette è la nuova eroina che si unisce al gruppo ed è una vera e propria eroina dal cuore puro ed è veramente una persona innocente e genuina che crede fermamente nel portare qualcosa di buono grazie alla sua opera e che deve ovviamente scendere a compromessi e sporcarsi le mani in questo mondo dove nulla è giusto e anzi dove fondamentalmente i supereroi non sono altro che esseri spregevoli che hanno questa facciata e questa opinione pubblica dalla loro parte ma che fondamentalmente commettono continuamente crimini atroci e poi dall'altro lato c'è Billy Butcher e poi dall'altro lato c'è Billy Butcher che insegue invece i supereroi che vuole far pagare ai supereroi cattivi il prezzo che devono alla giustizia io ho amato questa serie anche se ripercorre alcune tematiche ovviamente già affrontate in altre serie tv soprattutto alcune serie supereroistiche ma meno perché secondo me da questo lato si è sempre ripercorso meno soprattutto nella parte dei supereroi c'è sempre questa visione dominante Marvel che sapete io non amo e soprattutto nelle serie tv secondo me è sempre stato indagato molto poco mentre le tematiche generali che vengono affrontate nella serie sono già state esplorate da altre serie ma fondamentalmente chi se ne frega è super divertente è una serie molto politicamente scorretta molto volgare molto cruda molto violenta quindi trigger warning ai massimi livelli lì ci sono scene che comunque insomma non sono per tutti e diciamo che è molto politicamente corretta sia nei toni che in ciò che accade nello schermo perché vuole evidenziare costantemente le contraddizioni di tutte quelle persone che una volta che entrano in contatto con i media e quindi diventano figure pubbliche e acquisiscono potere si sentono quasi immuni dalle leggi da tutto ciò che avviene attorno quindi un po' ha anche a che fare con la cancel culture che in questo caso però non esiste è un vero e proprio ritratto fondamentalmente anche del capitalismo delle sue disillusioni più totali e della sua efferratezza per raggiungere il potere quasi in modo sfrenato e che quindi alimenta chiaramente gli istinti più depravati gli istinti più violenti dell'animo umano anche quello dei supereroi e a quali conseguenze questo ovviamente può portare e insomma io l'ho amata anche perché tutti i personaggi sono ritratti in una maniera estremamente caratterizzata e sono tutti molto cinici scorretti eccessivi come se fossero dei veri e propri involucri svuotati e decostruiti totalmente di qualsiasi caratteristica un supereroe si presume debba avere no? e niente io ho veramente apprezzato tantissimo ma raga ma soprattutto la colonna sonora cosa non è la colonna sonora? cioè lo ripeterò sempre colonna sonora da recuperare assolutamente molto 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 bella ci sono i Damned solo per quello noi li vogliamo bene un sacco di Punk ma anche un sacco di altre cose bellissime e niente io quindi chiaramente vi consiglio The Boys perché per me è approvatissima poi ho visto una serie che penso di essere rimasta l'unica a non aver ancora visto che è Mindhunter su Netflix ovviamente io non l'avevo vista perché non sono una grande fan del genere cioè mi piacciono alcune cose di questo genere tantissimo però in generale io i thriller psicologici barra con alcuni elementi misteri e quant'altro non è il mio il mio genere preferito anzi per nulla ma è tutto ciò che è poliziesco tendenzialmente annoia a morte è tutto ciò che ascolto quando metto in sottofondo e non mi interessa più di tanto in senso per farvi capire un po' la mia cosa effettivamente però Mindhunter era visto da tutti come capolavoro assoluto miglior serie di Netflix secondo me è una serie validissima di Netflix una delle migliori mai prodotte perché è un prodotto molto solido cosa racconta Mindhunter forse se non lo sapete in questo universo perché siamo rimasti solo noi è fondamentalmente una serie che fonde thriller psicologico e true crime infatti ci troviamo a percorrere insieme ai nostri protagonisti la creazione della prima divisione di Mindhunter ovvero un programma che nel 77 viene fondato in maniera super innovativa per fare delle ricerche sul comportamento criminale per studiarne proprio le dinamiche di questi assassini seriali in questo caso e per poi tracciarne dei profili psicologici e quindi rendere il lavoro di ricerca della polizia molto più fluido sistematico e più facile in modo che questo effettivamente diventino un vero e proprio modello di indagine seguiamo soprattutto tre personaggi Holden che è il nostro protagonista che chiaramente è un personaggio giovane intraprendente pieno di entusiasmo Bill Tench che invece è il poliziotto di lunga data un po' più ruento un po' più ruvido molto più grezzo però che comunque comprende anche grazie alla sua esperienza l'importanza di tutta questa ricerca e poi infine c'è la psicologa Wendy Carr che viene arruolata nella banda proprio per la sua grande esperienza nella ricerca soprattutto psicologica in campo criminale anche per il suo carattere estremamente freddo e molto lucido ovviamente formando questa squadra iniziano ad intervistare tutti i grandi assassini seriali che sono attualmente cioè nel momento storico in cui avviene rinchiusi nelle prigioni americane quando riescono ad avere un certo tipo di riscontro arrivando a dei contatti che diventano anche parecchio ambigui non essendoci una procedura questi tipi di contatti con questi criminali a volte sono molto molto strani come rapporti che si vengono a creare insomma questa è una serie che esplora cosa voglia dire mettersi nella mente del cattivo cercando di indagarne i ragionamenti cercando di indagarne la parte più oscura esplorando propriamente la mostruosità esplorando tutto ciò che c'è di più cupo nell'animo umano proprio perché si è a contatto con degli assassini seriali e cercando di porre la discussione attorno a queste persone a questi temi in una maniera che cerca di non disumanizzare colui che ha compiuto atti scellerati ed efferati e non anteponendo sempre solo la visione del buono cioè io che so dalla parte del bene giudico te che stai dalla parte del male perché chiaramente non avrebbe alcun riscontro ai fini di indagine psicologica insomma cerca davvero di rendere anche dei criminali la dimensione meno disumanizzata possibile e anche meno alienata da un certo punto di vista per ricostruirne l'aspetto psicologico allora la serie ha veramente molto di poliziesco che io ripeto non amo moltissimo come la suspense che non è un'altra cosa che io amo moltissimo perché soffro d'ansia e in questa serie ovviamente questa raggiunge dei livelli incredibili però devo dire che in realtà tutta la serie è gestita davvero bene sia dal punto di vista della costruzione della storia che nella quantificazione anche delle puntate secondo me è stata scritta molto bene da questo punto di vista perché sempre di più lo spettatore si trova di fronte a una vera propria discesa nella tana del bianconiglio e questa cosa l'ho trovata molto affascinante perché più vai avanti più ti sembra di sporcarti le mani anche come spettatore niente devo dire che chiaramente questa serie è bellissima è una serie molto molto avvincente anche per chi come me non è appassionatissimo di genere io purtroppo ripeto il mio limite è quello lì quindi chiaramente io Mindhunter ve la suggerisco dopodiché ho visto Euphoria dell'HBO che ora è presente su Sky quindi la trovate su Sky Go Sky On Demand insomma tutti i servizi di Sky disponibili e che è una serie che tratta di adolescenza in una maniera molto anticonvenzionale per alcuni versi e soprattutto contemporanea è una serie che a me perché sono vecchia e sono cresciuta con altro tipo di approccio ha ricordato moltissimo Skins per alcuni versi anche se devo dire il mood di tutta la serie è decisamente più cupo e decisamente meno collegato ai rapporti interpersonali quanto più sulla crisi personale e questa cosa è una grossa differenza anche se io ci ho rivisto molti moltissime cose quindi per me è una serie che è costruita molto bene mi è piaciuta moltissimo e fondamentalmente mi è piaciuto come parlassi di adolescenza anche se io non la trovo per nulla una serie per adolescenti perché il tono la costruzione la dinamica anche solo visiva è visivamente molto caratterizzata dal punto di vista sia registico che dal punto di vista della fotografia del montaggio cioè è una serie molto molto ragionata dal punto di vista estetico ma per il tono per il modo di raccontare secondo me è un po' decentrata però vabbè queste sono considerazioni che facciamo poi anche dopo comunque in generale seguiamo la storia di Rue che è una ragazza che ha affrontato un'estate molto difficile perché ha iniziato da qualche anno ad abusare di sostanze e questo l'ha portata a delle crisi sempre più profonde legate a una serie di difficoltà personali e del suo reinserimento nella società diciamo una volta uscita e ricominciata dopo che è ricominciata la scuola eccetera eccetera quindi facendo i conti anche con tutto ciò che le stava attorno con le difficoltà i rapporti con l'esterno a un certo punto della sua storia incontra Jules che è una ragazza che si è appena trasferita è una ragazza transgender e inizia tra di loro un'amicizia questo però porta un po' a esplorare il gruppo con il quale si relazionano quindi non seguiamo solo Rue e Jules ma seguiamo tutta una serie di personaggi che fanno parte della loro realtà e che chiaramente uno per uno proprio come faceva Skins tra l'altro vengono indagati per capire quali sono poi le loro crisi le loro difficoltà e capiamo che tutte loro sono persone fratturate in qualche modo sono persone che affrontano una serie di difficoltà personali non indifferenti finché praticamente la situazione non arriva a degenerare proprio perché vengono scoperte delle carte davvero davvero inquietanti quindi morale della favola esteticamente penso che Euphoria sia una delle serie più belle che siano state create negli ultimi anni perché c'è proprio una grandissima indagine penso solo alla makeup artist che ha seguito tutto il cast io la seguo su Instagram è pazzesca fa tutte le cose super particolari super fighissime e a parte quello anche proprio dal punto di vista cinematografico secondo me è bellissima Euphoria il tono è molto cupo perché proprio per raccontare queste crisi adolescenziali non indora la pillola nemmeno un po' cioè manca sempre quel barlume di speranza quella spinta verso la positività cosa che però sinceramente a me non è dispiaciuto ma è anche il motivo perché io l'ho rimandata per un sacco di tempo perché si percepisce già dal trailer che comunque si parla di adolescenza in una maniera abbastanza estrema cioè l'abuso di sostanze l'abuso di psicofarmaci c'è la violenza ci sono rapporti malati abusivi ci sono questioni familiari parecchio controverse e quindi insomma non stiamo guardando Riverdale per dire stiamo guardando una serie che comunque affronta soprattutto le pieghe più oscure e le pieghe più drammatiche di un periodo molto delicato come è quello dell'adolescenza personalmente chiaramente mi è piaciuta moltissimo perché per alcune cose ho rivisto cose ho visto anche un'evoluzione però anche nei ragazzi che vengono rappresentati in Euphoria ci sono alcuni stereotipi che Euphoria cerca di ribaltare distruggere proprio per farne vedere altri lati dalla famiglia perfetta al quarterback alla relazione tra la ragazza d'oro e il ragazzo d'oro anche verso la transessualità chiaramente col personaggio di Jules ci sono tante cose preziose secondo me proprio l'amicizia anche tra Rue e Jules mi è piaciuta moltissimo anche se poi anche quella a un certo punto prende una piega che è controversa che è comunque interpretabile in maniera controversa e anche tutti i personaggi del cast arricchiscono moltissimo chiaramente perché si parla di persone di rapporti in un periodo complesso e i rapporti tra le persone sono già difficili sono molto più accentuate più difficili ovviamente quando sei in un periodo dove sei molto giovane e non so mi è piaciuta davvero tanto quindi chiaramente io ve la consiglio molto anche solo dal punto di vista visivo secondo me è piacevole la colonna sonora è molto apprezzabile c'è moltissimo indie c'è moltissimo showgaze c'è moltissimo dream pop e queste cose a me piacciono non solo quindi insomma anche da questo punto di vista lo apprezziamo poi vado a Disincanto perché è uscita la seconda stagione su Netflix io mi ero ritrovata ad odiare la prima stagione ed ero molto molto stranita da questa mia percezione perché Matt Groening a me non è mai piaciuto nei Simpsons io non sono una fan dei Simpsons ma sono una grandissima fan di Futurama e questo per qualche verso un po' riprende quel mood e quindi quando io l'avevo iniziata nella prima stagione ero rimasta proprio tanto delusa poi prima che uccisse la seconda abbiamo fatto un mega rewatch con mio marito e io penso di aver sbagliato completamente la percezione della narrazione cioè proprio penso di aver sbagliato tutto infatti ho rivalutato completamente la prima stagione cioè è una serie che ha un potenziale narrativo pazzesco assolutamente interessante personaggi costruiti molto bene una situazione che è sempre un po' come tutte le storie di Groening al limite tra l'assurdo ma come specchio del reale in maniera che quasi ti fa male no? perché mette proprio in evidenza le nostre difficoltà e le nostre contraddizioni cioè una narrazione che in generale comunque non procede in una maniera estremamente lineare se alcuni episodi sembrano quasi racchiusi in un mini ciclo poi dopo che viene ripreso poi dopo che si riallaccia la storia generale e quindi insomma ci eravamo lasciati alla fine della prima con un importante cliffhanger ecco a me questa seconda stagione ha convinto molto meno cioè questa stagione ha convinto molto meno la prima finiva con questo cliffhanger come vi ho già detto dove praticamente si presume che ci sia una svolta parecchio scura cosa che non c'è innanzitutto riapriamo comunque la storia con dei presupposti abbastanza assurdi però in qualche modo solidi e sicuramente esilaranti il problema è il procedere della narrazione cioè tutta la storia diventa molto episodica diventa piena di spostamenti molto diciamo labirintici all'interno della stessa trama che si frammentano lungo il corso di tutta la stagione e secondo me non regge il ritmo della prima perché nella prima queste micro storie questi episodi che si sviluppano su più puntate portavano a un'evoluzione della trama principale qua secondo me non c'è mai un vero e proprio salto in avanti anzi sembra quasi come se tutto fosse contenuto nelle loro storie non si riflette nella brillantezza di tutta la serie anzi proprio lunga è stata faticosa è stata stancante a me non ha particolarmente convinto mentre della prima veramente mi mangio le mani per aver pensato il peggio perché sinceramente la prima la trovo una serie bellissima ora che l'ho rivista sono entrata molto di più nei personaggi ho ponderato molto di più sul senso della narrazione su questa non sono convinta che sia all'altezza della prima e l'ho guardata con molta più attenzione ovviamente rispetto a come avevo visto la prima stagione la prima volta ma secondo me non regge e mi dispiace perché è in realtà un prodotto che ha del potenziale non lo so mi sembra quasi che Matt Groening non riesca a trovare la chiave di volta in questo punto della storia e non lo so cioè non riesce a essere forte come potevano essere le sue serie precedenti un po' anche per colpa di Netflix chiaramente che chiede un tipo di sviluppo comunque condensato non è una serie che si sviluppa su centomila episodi come ogni stagione di Simpsons o di Futurama ma non lo so forse non è così forte la storia principale a questo punto non lo so ho molti dubbi comunque le mie impressioni generali sono che questa seconda stagione di Disincanto invece andiamo avanti e passiamo a Carnival Row che è la serie di Amazon Prime con Cara Delevingne e Orlando Bloom sulle guerra tra le fatine e gli umani allora chiaramente partiamo dal presupposto che per guardare questa serie non dovete aspettarvi qualcosa che non sia il trash perché questa è una serie trash è una serie anche parecchio trash in alcuni momenti proprio eh bisogna avere un po' quella visione lì infatti all'inizio io mi ricordo che ho provato a rivederla diverse volte inizialmente proprio mi addormentavo perché è una serie che da un lato ha delle tematiche estremamente seriose e ne parliamo però dall'altro non riesce nemmeno a sostenere queste sue tematiche a livello cinematografico cioè è comunque una serie fatta molto bene dal punto di vista tecnico perché secondo me è molto pregevole anche l'aspetto fantasy della serie però dall'altro è più serio il tema rispetto a come lo elaborano e a questo ci arriviamo infatti noi ci troviamo in un mondo dove esistono le fate le fate che penso siano fe fondamentalmente però non solo fondamentalmente sono conosciute dalla popolazione umana ma c'è stata una guerra sanguinosa e questo ha ridotto i fe ovviamente ha una razza considerata di secondo livello infatti il razzismo avviene proprio verso di loro tanto che nella nazione che continua ad accoglierli mentre scappano dalla guerra scappano dalla morte certa vengono rinchiusi in un ghetto e vengono considerati proprio al limite del subumano e quindi insomma tutta questa situazione ovviamente è un grande dipinto sul razzismo ovviamente qua è elaborato su due razze diverse quindi i fe e gli umani e all'interno di questi c'è la storia ovviamente di amore prodotto tra il soldato umano e la nostra fatina che si chiama Vignette e lui invece è Rycroft vabbè comunque ci interessa allora ovviamente la storia si apre perché Vignette giunge nel nuovo mondo dopo aver pensato che Rycroft in realtà sia morto e quindi di aver perso il suo amore umano scoprendo però che ovviamente Rycroft fa il soldato dove lei giunge alla salvezza e qui inizia un po' tutta una dinamica tra rivendicazioni delle fate ricostruzione del passato eccetera e contemporaneità dove c'è la vicenda tra Cosino e Cosina che litigano ovviamente e dall'altro lato anche tutta la situazione sociale che si viene a creare attorno a queste cose in più qualcuno sta uccidendo i fe e a nessuno gliene frega niente ovviamente ma proprio Rycroft inizia ad indagare per scoprire chi c'è dietro a queste morti a queste aggressioni eccetera e ovviamente ci sono i fasci di mezzo perché è strano comunque devo dire che partendo con presupposti diciamo molto tranquilli cioè non dovete pensare che questa sia una serie non trash perché lo è però devo dire che in realtà a me è risultata piacevole alla fine è fatta molto bene dal punto di vista tecnico cioè tecnicamente a me non è dispiaciuta per nulla ho un po' più problemi con la narrazione perché il ritmo è troppo lento secondo me per ciò che poi alla fine ci viene sempre presentato il mistero di fondo fondamentalmente viene elaborato e già si capisce tutto nelle prime due puntate per poi avere un po' di risvolti lungo la narrazione che sono comunque apprezzabili e devo dire che comunque insomma è una serie piacevole da mettere sottofondo il tema centrale è da un lato romance dall'altro vi sembrerà di avere molto a che fare con l'attualità ovviamente perché comunque si parla di questioni di razza di differenze tra le persone di accettazione di accoglienza di guerra di scontri di un sacco di roba infatti devo dire che se non volete staccare dalla realtà forse non è nemmeno la serie trash adatta a voi però comunque secondo me invece una chance gliela darei perché comunque l'ho trovata alla fine nel suo essere assurda l'ho trovata comunque piacevole quindi io devo dire che ve la suggerisco se volete qualcosa di trash che però abbia a che fare invece con tematiche molto contemporanee arriviamo a un'altra serie che io amo molto e ve ne ho già parlato spesso ovvero il principe dei draghi è uscita la terza stagione su netflix e secondo me questa terza stagione di cui non andrò a parlarvi con profondità perché bisogna prima parlare delle prime due e chiaramente tutto è spoiler devo dire che si conferma una delle serie migliori di animazione che ci siano sul mercato io trovo che il principe dei draghi sia una serie di animazione preziosissima un po' davvero eredita tutto ciò che c'è di buono nel come si costruiscono i personaggi come si costruisce una storia solida e come la si sviluppa e in questo caso ci sono tantissime sfaccettature anche in una serie che probabilmente poteva essere quella un po' più piatta perché nelle prime due c'è proprio un quest molto chiaro in questa il quest è stato un po' risolto però bisogna fare i conti con ciò che succede dopo e anche ciò che succede dopo secondo me è ricchissimo infatti non perde mai un colpo la serie non riesce mai ad abbassare il livello di tensione di avventura di profondità dei suoi personaggi che riescono a non snaturarsi ma io questa cosa l'apprezzo moltissimo nonostante le difficoltà che ci potrebbero essere e quanto sia facile sminuire questi personaggi ma in realtà secondo me è veramente una serie magnifica che io vi suggerisco sempre se vi piacciono le serie animate questa è una serie animata per ragazzi ovviamente ma è una serie che va bene per tutti perché è costruita bene è scritta bene il tema centrale chiaramente nasce dall'incomprensione e dall'intolleranza però si sviluppa su tutti i personaggi sulla loro storia sul modo in cui agiscono e su come poi la storia evolve una volta che ci si rende conto che chiaramente non ci sarà mai fine fondamentalmente alle differenze alle incomprensioni anche se si cercherà in tutti i modi di appanarle e ripeto io trovo questa serie magnifica ve la suggerisco è l'ennesima volta in cui mi sentite parlare della serie ma anche la terza secondo me conferma questi elementi positivi anche perché ci sono invece delle dinamiche che potrebbero essere molto più lineari in altre serie e invece qua riesce sempre ad arricchirle davvero l'ho divorata anche questa l'abbiamo divorata nel giro di pochi giorni perché davvero apprezzabilissima se vi piacciono i prodotti animati io ve la suggerisco moltissimo infatti in tutto questo video troverete tantissime serie animate serie tv classiche eccetera perché io ne guardo moltissime non in maniera ossessiva però seguo spesso anche serie animate oltre che a serie più classiche e secondo me ci sono dei prodotti davvero validi e quindi perché non suggerirveli poi arriviamo a una serie che penso tutti si aspettassero che io ne avrei parlato in lungo in largo ma non l'ho voluto fare per una serie di motivi che vi spiego ora infatti ho visto ovviamente The Mandalorian che è la nuova serie prodotta da Disney su ovviamente ambito Star Wars in questo caso noi ci troviamo a seguire Un Mandaloriano la storia di Un Mandaloriano ovviamente i Mandaloriani sono la razza diciamo la cultura di Boba Fett Django Fett eccetera eccetera per chi è amante di Star Wars e ossessivamente fissato con Star Wars come la famiglia fiction il Mandaloriano è una figura che chiaramente nell'immaginario collettivo è super importante perché sono i guerrieri più potenti di tutta la galassia e hanno subito una sorte davvero tragica per una serie di motivi che non siamo qui ad indagare comunque Mandalorian chiaramente era attesissima perché era stata comunque pubblicizzata anche molto per i fan di Star Wars quelli rompiti come me cioè quelli che fondamentalmente hanno visto gli ultimi tre film e hanno avuto i brividi o che hanno visto la trilogia e hanno avuto i brividi e tutto ciò insomma Mandalorian a me è piaciuto però con riserva molte riserve allora innanzitutto secondo me va capita un po' la dimensione di Mandalorian Mandalorian segue le vicende da un lato di Nando che è un mandaloriano un po' tipico un po' strano molto isolato che ha mantenuto la sua armatura l'ha quasi completata e lavora come cacciatore di taglie durante una delle sue missioni gli viene chiesto di recuperare un oggetto importantissimo e dopo essere finalmente riuscito dopo aver sconfitto altri diciamo pretendenti a questo pacco per poter riscuotere ovviamente la taglia trova questo child questo bambino che ovviamente ovunque viene chiamato baby Yoda perché è della stessa razza di Yoda è ovviamente la cosa più tenera più bella più mai vista in tv io penso di non aver mai avuto degli istinti materni nella mia vita se non per i miei gatti ma le ho avuti con baby Yoda e devo dire che io ora vorrei un baby Yoda in qualche modo spero che la galassia me ne mandi uno per favore per favore per favore vabbè comunque a parte io che sembro completamente deficiente comunque il mandaloriano ovviamente trovando baby Yoda proverà dei sentimenti contrastanti quantomeno e invece che restituire The Child ai suoi committenti inizierà una grande fuga questo è un po' il succo della narrazione in pratica cosa ne penso allora questa è una serie molto strana a me ha ricordato tantissimi film western che io non amo e quindi e penso che bisogna approcciarsi a The Mandalorian con una serie di presupposti innanzitutto non aspettatevi una serie dove in una puntata succedono 800 cose le puntate sono molto lente molto riflessive hanno una cinematografia bellissima bellissima che per alcuni versi ricorda molto la prima trilogia e questo io li ringrazio perché comunque insomma noi vogliamo quella roba lì non ci interessa il resto siamo noiosi siamo patetici cioè è sempre la stessa roba e la cosa che a me è un po' ha convinto a pezzi è che è una serie che alla fine ricorda moltissimo proprio le serie vecchie le serie quelle degli anni 50 e 60 e non solo serie dove fondamentalmente ogni episodio si chiude su se stesso e questo è stato ciò che mi ha un po' convinta a metà nel senso che la serie comunque ha 8 episodi non ne ha 100 e in realtà la domanda che tutti ci poniamo da appena il momento in cui Mando trova Baby è chi è Baby cioè perché c'è questo bambino perché la gente lo sta inseguendo ecco invece fondamentalmente la storia di The Child e la storia in generale di fondo è molto poco esplorata perché se la prende con grande calma cioè fondamentalmente è un po' fatta come le serie proprio vecchie non so come dire c'è questa impostazione dove fondamentalmente tu segui gli episodi mano a mano che è molto affascinante per dirvi Mr. Fiction ha amato tantissimo questo aspetto a me ha convinto meno perché viene stressato molto il tema del chi è il bambino perché sto bambino è così prezioso e lo capiamo che è prezioso per ciò che fa ma non capiamo il sottofondo non capiamo un po' il sottotesto e se fosse stata una serie di 100 episodi io questa cosa l'avrei capita moltissimo perché alla fine devi prenderla con lo spirito di mi godo ogni puntata perché è splendido dal punto di vista cinematografico ci sono questi spazi queste inquadrature larghissime meravigliose c'è un po' tutta la questione di Nando chi è Nando cosa fa eccetera eccetera e Nando è un personaggio che chiaramente è molto particolare anche il suo personaggio è un personaggio che tace è un personaggio che non parla molto ed è un personaggio che dall'inizio alla fine non si toglie mai il caschetto non si toglie mai ciò che dovrebbe farcelo vedere e questo è già qualcosa per sé di straniante di allenante noi seguiamo una serie dove non vediamo mai in faccia il protagonista tutti questi elementi messi insieme secondo me rendono molto bene alcuni aspetti della serie ma secondo me non riescono a rendere con forza quello che vuole raccontare la serie cioè se fosse stata davvero una serie di 50 episodi sarebbe stata perfetta perché è la classica serie dove ogni episodio c'è un'avventura si conclude l'avventura si ricomincia dal punto dopo sappiamo semplicemente che Mando vuole tenere al sicuro Baby e quindi seguiamo la storia di loro due e poi a un certo punto ci verranno rivelate cose ma è una serie di otto episodi è una serie troppo breve per potersi permettere di non esplorare la trama di fondo a mio parere e quindi è questo che non mi ha convinto molto poi ripeto cioè tutte ste critiche vanno a farsi benedire ogni volta che spunta un Baby Yoda perché è la cosa più carina del mondo cioè io fan girl di Baby e io madre di Baby che penso di non avere alcun istinto materno questa cosa mi inquieta moltissimo io voglio un Baby voglio un Baby basta ma poi infatti chi se ne frega della serie cioè Baby cioè la guardi anche solo per quella comunque insomma diciamo che secondo me hai fan soprattutto più navigati soprattutto della frangia estremista di Star Wars come ci consideriamo noi in casa sicuramente è una serie che piacerà molto io sono convinta di questo comunque è stato stra piacevole seguirla è anche una di quelle serie dove te ne vedi un episodio al giorno e va bene non hai bisogno di vederteli tutti in un colpo anche perché è veramente troppo breve è veramente spiacevole questo se la Disney avesse fatto una serie più classica da 20-25 episodi sarebbe stata perfetta e così avremmo saputo un po' di più però insomma intanto io apprezzo molto l'aver realizzato questa serie perché cioè dopo aver visto quello proprio di episodio 9 sì no vabbè comunque per fortuna c'è stato Mandalorian le mie impressioni sono generalmente positive poi però da fan vado giù di testa per alcune cose soprattutto anche per la costruzione del popolo mandaloriano tutta la storia queste cose mi sono piaciute moltissimo mi è piaciuto alla fine il ritmo perché lo capisci a un certo punto cioè ok questo è ciò che mi aspetto mi è piaciuto meno il fatto che avendo così poche puntate non avessero indagato di più la storia di fondo o comunque ricercato più risposte e dato più risposte però molto bene belli personaggi bel personaggio di mando bellissimi personaggi femminili secondo me tutti molto sfaccettati anche i droidi hanno una dignità pazzesca all'interno del romanzo baby 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 basta ok dopo il delirio al quale avete appena assistito che chiaramente è un delirio che non avrà mai fine finché non arriverà il mio baby io da casa passiamo a un'altra serie che invece purtroppo per me si è rivelato una mega delusione che è The Crown 3 a me la prima era piaciuta molto la seconda in un parere super impopolare a quanto ho percepito in generale è piaciuta ancora più che la prima perché si indagavano di più personaggi attorno ad Elisabetta e con Elisabetta e non solo la sua figura questa terza stagione per me è stata una mega delusione nel senso che è la serie più debole delle tre ho faticato a comprendere sia l'evoluzione della trama perché a un certo punto sfilacciatissima non segue veramente negli eventi storici cioè essendo una serie storica chiaramente tu segui anno per anno o vai avanti nella timeline sapendo più o meno cosa aspettarti invece in questo caso è molto frammentaria soprattutto anche a livello di costruzione dei personaggi mentre alcuni sono esplorati un po' di più cioè Filippo Margaret eccetera devo dire che invece chi subisce il colpo più forte è proprio Elisabetta ed è un peccato perché Olivia Colman è un'attrice della Madonna e ha preso un po' il testimone per diventare Elisabetta ma in questo caso secondo me la sfruttano malissima è proprio scritta male Elisabetta è scritta in una maniera che non ha alcun tipo di evoluzione personale diventa semplicemente un involucro e diventa la regina che tutti noi fondamentalmente conosciamo dall'esterno quindi è una figura che per noi è un'entità che non ha grande spessore e secondo me invece questo è stato l'errore più grande primo perché la Colman è bravissima ed è stata sprecatissima in questa serie secondo perché secondo me non c'è un'evoluzione soprattutto del suo personaggio che deve continuare ad essere il personaggio chiave di tutta la narrazione perché la corona la porta a lei non è che la portano gli altri e secondo me si sono evidenziate molto male alcune dinamiche ho veramente apprezzato molto poco questa terza perché c'è un'idea più confusa della direzione da intraprendere quantomeno perché mentre trovo molto interessante esplorare anche ciò che sta attorno alla regina la regina deve rimanere la figura chiave centrale qua invece sembra quasi un po' inerme un po' come se non avesse controllo su nulla i conflitti sono molto poco molto poco presi sul serio dallo spettatore secondo me perché la regina non è più una figura con cui a un certo punto tu empatizzi cioè diventa semplicemente una macchietta mi è dispiaciuto moltissimo quindi insomma bene le prime due malino questa comunque vedrò anche la prossima perché sono curiosa ovviamente però che peccato che peccato dopo The Crown abbiamo visto Dawn Patrol su Amazon Prime è questa sulla serie di The Boys ovviamente sulla scia del tresciume dei personaggi supereroistici ripeto io non sono per nulla una fan della Marvel in generale proprio nella vita mi piacciono gli X-Men da morire sono i miei personaggi preferiti mi piace moltissimo la maga Scarlett fine e ho fatto coming out anche qua su YouTube quindi tendenzialmente cerco di guardare un po' i prodotti della DC che tendenzialmente fanno schifo e Dawn Patrol non è che non faccia schifo diciamocelo chiaramente Dawn Patrol è una serie super trash super super trash al contrario di The Boys che comunque invece è solida cioè secondo me funziona molto Dawn Patrol no ma è una serie divertente cioè quindi a me è piaciuta soprattutto per questo aspetto che va presa con molta poca serietà c'è Brendan Fraser che è in delle condizioni pietose in questo però è molto divertente e non lo so a me Doom Patrol alla fine è una serie che mi è piaciuto guardare mi ha divertito è trascissima è un qualcosa di inaccettabile probabilmente ma a me ha divertito molto e comunque anche la trama di fondo in questo caso ragiona su un gruppo di supereroi che hanno acquisito dei poteri ma non in maniera naturale ovvero c'è questo spin doctor possiamo dire che li ha trasformati per farli sopravvivere oppure li ha accolti quando hanno iniziato a percepire un potere che non potevano controllare e sono stati una vera e propria famiglia a un certo punto il problema è che la famiglia a un certo punto ha iniziato a frammentarsi e ovviamente quando si è frammentata la famiglia sono intercorsi dei nuovi problemi e a un certo punto l'inizio della storia coincide con la sparizione del maestro del dottore che li ha aiutati e quindi ora devono ritrovarlo e ci sono una serie di complicazioni non da poco all'interno della storia devo dire che per me è comunque super apprezzabile perché è stata divertente è stata una serie davvero non banale per alcuni aspetti e per altri veramente stendiamo un velo pietoso però non lo so se a voi piacciono comunque in generale le serie di supereroi e vi piace in generale l'approccio un po' tamarro non serioso cioè non so come dire quello tamarro un po' trash però che alla fine comunque ti intrattiene ti diverte io di un patro la vedrei se fossi in voi non mi sembra per nulla male universo DC che secondo me va un po' rivalutato dai grandi fan del Marvel Cinematic Universe io ve l'ho detto io l'ho provata ma è divertito e sempre riguardo invece ai personaggi che amiamo molto uno dei fumetti che davvero io amo di più penso sia veramente il fumetto definitivo in generale ma detto ciò Watchmen ve ne avevo già parlato nei preferiti dell'anno scorso di dicembre e io penso che Watchmen sia seriamente la serie migliore del 2019 se avete visto solo il film probabilmente vi sentirete molto disorientati soprattutto perché il finale del film è un falso finale e in questo caso partiamo invece da presupposti più di rottura ci troviamo in un futuro distopico un futuro lontano da quello dove ci eravamo lasciati con Watchmen vent'anni dopo se non sbaglio e in questo caso ripartiamo da Stati Uniti che sono davvero diventati un mondo possiamo dire distopico dove tutti i poliziotti tutti insomma coloro che sono al servizio dello Stato portano una maschera che lì copre il volto in modo da poterli proteggere e anche i supereroi pochissimi sono stati limitati nella loro attività e quelli che ancora riescono ad agire lo devono fare completamente nascosti perché sono diventati illegali fondamentalmente anche se aiutano spesso la polizia in questo mondo iniziano però a succedere a cadere cose squadrismo gruppi violenti gruppi che attaccano chiaramente i poliziotti e stanno facendo qualcosa di grosso insomma il presupposto è questo io ho trovato Watchmen magnifica soprattutto perché è davvero una serie costruita molto bene soprattutto dal punto di vista psicologico dei personaggi ci troviamo di fronte a personaggi che secondo me è difficile che rientrino tra i vostri preferiti da un lato ma soprattutto perché sono molto sfaccettati sono molto complessi raccontano moltissimo dell'umanità attraverso di sé attraverso la loro esperienza e soprattutto vivono delle rotture molto profonde non c'è una distinzione così netta tra bene o male perché il bene per agire adotta dei comportamenti maligni chiaramente e il male dall'altro lato pensa di essere nel giusto pensa di fare il proprio bene cioè noi ci troviamo a seguire Angela che è la protagonista contro questo gruppo di suprematisti bianchi chiamato settimo reggimento che si ispira a Rorschach che chiaramente indaga soprattutto su questioni razziali contemporanee ma non solo diciamo che rispetto al fumetto chiaramente cerca di ricalcarne molto lo spirito anche la cupezza in alcuni passaggi però senza volerlo chiaramente imitare né diventare un lavoro troppo reverenziale infatti è per quello che prende le distanze anche temporali e ne ricostruisce la propria storia però è un'indagine davvero molto interessante molto complessa e con tanti 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 livelli di approfondimento di indagine sulle tematiche come l'identità il razzismo le questioni di classe anche cosa vuol dire essere una donna nera una supereroina nera e donna all'interno di un mondo che sembra volerti combattere rifuggire che cosa significa essere un supereroi in questo momento storico e con tutte le sue conseguenze insomma io trovo che sia una serie che parla di tematiche molto serie cercando di farlo però in una maniera molto avvincente e soprattutto per la trama principale che io trovo molto valida e che arriva dopo un po' non aspettatevi una serie completamente travolgente perché è una serie che si costruisce man mano ma poi ne diventerete ossessionati arrivate quasi alla fine che non potrete vivere senza io trovo che sia veramente la serie migliore dell'anno scorso e questa la trovate su sky on demand anche e magnifica cioè questa guardatela soprattutto se avete visto solo il film di watchman andatevi a cercare un po' di informazioni in giro sull'internet perché è molto fuoriante il film di watchman nonostante abbia una bellissima colonna sonora e per fortuna anche questa serie ha una colonna sonora della madonna io sono curata da Trent Reznor e non solo di cosa stiamo parlando una delle soundtrack più devastanti degli ultimi tempi ok e dopo la serie migliore dell'anno penso sia arrivato il momento di parlare di una delle delusioni più incredibili degli ultimi tempi ovvero the witcher allora partiamo dal presupposto io ho letto solo il primo di the witcher che a quanto poi ho capito era un prego vabbè solita roba e non mi aveva particolarmente colpito non ho trovato la scrittura di Sapkowski rilevante e poi sì interessanti alcune cose però non lo so non mi aveva colpito personalmente non ho mai giocato a the witcher il videogioco perché non sono una videogiocatrice detto ciò però ero carica perché questa serie è stata presentata come la nuova serie fantasy a livelli di game of thrones e da lettrice fantasy e soprattutto da una che sta aspettando una serie fantasy fatta come si comanda mi aspettavo molto di più io ne ho parlato lungamente anche su instagram se non mi seguite ovviamente fatelo e i miei problemi principali su the witcher sono i seguenti non voglio nemmeno parlare della cronologia perché penso che vabbè andando avanti a un certo punto si capisce che la cronologia è sfasata vabbè tecnica che può essere apprezzato meno io non l'ho apprezzata ma comunque va anche bene ci può stare come esperimento il problema è tutto il resto cioè il problema è che proprio vabbè a livello di effetti speciali già dalla prima scena si capisce che non andremo tanto bene ma soprattutto il problema sono i personaggi cioè non c'è alcun tipo di approfondimento del personaggio non si capisce niente cioè per me che io non ho giocato a The Witcher per me che non sono fan non capire nelle basi del personaggio il sistema magico il world building nessuno di questi elementi è un problema non da poco cioè quali sono le regole di questo mondo secondo me in un prodotto fantasy questi devono essere presupposti chiari all'utenza perché questo crea il patto con il lettore in questo caso con lo spettatore cioè sapendo che ci sono certe regole capendone alcune raccontandone alcune allora dopo lo spettatore ha gli strumenti per decodificare tutto il resto cioè qua zero cioè cos'è il Witcher cosa fa il Witcher è uno a quanto pare che ha un bottone grande così sul pacco illuminato ogni tot perché bisogna guardargli il pacco e le chiappe e va anche bene però no cioè non so io non trovo neanche così sbagliato Henry Cavill cioè lo trovo anche corretto come personaggio ma alla fine il Witcher deve essere un armadio infisicato e affascinante ci può stare il problema è proprio cosa fa il Witcher che poteri ha qual è il sistema magico nel quale si inserisce perché ci sono delle creature in questo mondo cioè questi presupposti non vengono mai raccontati non vengono mai esplorati il livello di non lo so affidabilità anche di questi personaggi è ridicolo nel senso che ci viene detto come unica cosa che il Witcher non si innamora mai non ha sentimenti no e poi lo vediamo innamorarsi subito e poi dopo però si innamora anche di nuovo quindi cioè è tutto falso ciò che sappiamo sono tutte fregnacce quindi boh ok bene poi vabbè Yennefer è fondamentalmente l'unica roba secondo me apprezzabile di tutto questo di questa narrazione però mi ha fatto abbastanza ridere anche quello cioè il suo personaggio che è storpi all'inizio e quindi baratta questo suo diventare una persona diversa per quanto storpia ha le tette più perfette che il web abbia mai visto cioè non lo so cade su delle ingenuità davvero ridicole a livello di tono è un tono che non è chiaro a livello di impostazione della trama è una trama che non è chiara anche perché il Witcher è un girovago fondamentalmente la cosa che ho capito probabilmente è questa quindi sarebbe stata la serie perfetta per renderla una serie episodi una serie episodi dove man mano tu ricostruisci il tuo personaggio e poi puoi andare avanti all'infinito fondamentalmente non vuoi renderla una serie episodi vuoi renderla una serie dove c'è una trama tutta collegata a un certo punto lo capisco ma lo devi fare dandomi comunque degli strumenti per muovermi all'interno di questo mondo io sinceramente sono molto infastidita in realtà dalla serie perché l'ho trovata proprio un'occasione sprecatissima perché del potenziale ce lo ha cioè anche io lo intuisco pur non avendo alcun legame con la serie so che è piaciuta molto a chi già videogiocava o già conosceva The Witcher per alcuni versi però bisogna sempre partire dal presupposto che se uno non ha un'esperienza diretta col gioco col videogioco deve comunque avere gli strumenti per muoversi e se io non li ho io questa roba la boccio cioè questa roba per me è insufficiente non c'è nulla che mi attragga di questo mondo e io sono appassionata di serie che non avevo letto parecchio cioè non avevo comunque già completato eppure mi ci sono appassionata e è stato un qualcosa di valido anche pur con le dovute differenze ecco credo che The Witcher male male cioè proprio pessimo proprio tutto male cioè dalla parrucca di Henry Cavill agli effetti speciali al suo personaggio che non lo so non l'ho capito non ho capito cosa faccia quali poteri abbia non ho capito tante cose questa cosa mi dispiace anche proprio la trama di fondo che comunque essendo cronologicamente sfasata doveva un po' guidarti almeno questa nel nell'esplorazione del mondo invece boh ritorna rilevante alla fine ma non ne capiamo il perché e non so raga io non rischio a salvare nulla di The Witcher cioè non riesco a capire a parte delle grandi inquadrature di masse muscolari che dovrebbero farmi pensare che è un figo pazzesco però boh è anche un figo pazzesco che non parla è un figo pazzesco che non comunica nulla è un figo pazzesco che che fa sto robo non lo so sono sempre rispettosa dei prodotti anche quelli peggiori ma in questo caso veramente cioè l'unica roba che mi viene da dire è un'occasione sprecata tutto il resto va a seguire invece arriviamo a una serie che a me ha convinto quasi del tutto ovvero la bussola d'oro ero abbastanza certa che non fosse fatto male che fosse molto rispettoso e molto curato e in effetti rappresenta tutto ciò abbiamo parlato un pochetto nella live sul gruppo di lettura della bussola d'oro perché proprio vedendo la serie mi era venuta voglia di rileggere quella che è una delle mie serie preferite fondamentalmente perché sono molto legata ai libri detto ciò bussola d'oro bene bene male male per alcuni versi molto bene perché l'ho trovata comunque super rispettosa molto fedele al libro per alcuni versi i cambiamenti che hanno fatto sinceramente non li ho completamente capiti ovvero l'inserire la questione dello specchio sul mondo diverso cioè del portale che in realtà è la grande rivelazione del primo libro in questo caso un po' ho capito perché l'hanno fatto e ci sta perché diventa una rivelazione all'interno della narrazione però sinceramente non mi è sembrato un elemento forte perché ha solo confuso ancora di più lo spettatore altra cosa che non mi ha convinto per niente è la figura di Laila è interpretato da un'attrice che secondo me rende bene alcune fasi ma la rende completamente insopportabile invece una caratteristica che io amo molto è che è un personaggio super risoluto che è una bambina decisa che ha quei valori in testa fino alla fine senza risultare però né pedante né stupida né fondamentalmente una spina nel fianco in questa serie lei risulta una spina nel fianco completamente però devo dire che a parte questi elementi e qualche altra sbavatura qua e là è una serie molto piacevole comunque noi seguiamo le avventure di Lyra che cerca di ritrovare il proprio amico Roger che è sparito è stato rapito e nel frattempo si trova coinvolta in qualcosa di molto più grande di lei fino ad avventurarsi nel nord dove secondo me la parte a nord è stata gestita abbastanza bene ovviamente per quanto possibile in una serie di otto puntate l'ho trovata comunque fatta molto bene molto rispettosa alla fine mi ha convinto non al cento per cento però comunque è una serie che mi sento di suggerirvi e questa la trovo una serie fantasy comunque elaborata molto bene mancano tanti elementi secondo me più legati all'ambiente steampunk e questa è una scelta che non ho condiviso moltissimo ma allo stesso tempo bravissimi personaggi cioè Mrs. Coulter è Mrs. Coulter in generale anche Lord Asriel è molto riuscito secondo me anche se è un po' meno shady diciamo di come io me lo visionavo però comunque bene cioè devo dire che è una serie che mi trovo ad aver apprezzato e che sicuramente promuovo dateci un'occhiata se non l'avete ancora vista penso che ora sia arrivata su Sky Atlantic o su Sky in generale quindi è disponibile anche nel catalogo on demand ah poi ho anche visto la luna nera ma non ve ne parlerò perché ho visto tre episodi e per me sinceramente no cioè no no niente cioè non c'è nulla di salvabile in quella serie niente mi dispiace non voglio sprecare anche tempo a parlare di una roba così orrenda cioè fondamentalmente è uno sceneggiato orai che è stato messo su Netflix per sbaglio evidentemente da qualcuno e niente direi di passare invece a un'altra atrocità che ho visto su Netflix che è Dracula allora ovviamente penso che moltissimi soprattutto gli appassionati di Dracula fossero abbastanza carichi di vedere questa serie io sono tra quelli perché poi vabbè da pubblicitaria ho apprezzato moltissimo anche una serie di cartellonistica che è stata fatta non so se avete visto in giro la campagna promo pazzesca veramente bellissima hanno fatto un lavoro della madonna e quindi insomma ero carica di vederla e soprattutto perché era una serie ideata dal duo Gatti Smofat che sono quelle di Sherlock quindi insomma si prospettava qualcosa comunque di interessante coinvolta la BBC eccetera io di questa serie non salvo praticamente nulla cioè è interessante il modo in cui hanno scelto di reinterpretare alcune cose non giudico quello il problema mio principale è che questa rivisitazione di Dracula è diventato Sherlock meets Dracula ovvero proprio tutti i personaggi a un certo punto sembrano Sherlock Holmes al di là del fatto che sembri tutto molto ridicolo tutto estremamente cringe per alcuni versi diventa estremamente cringe ma il mio problema fondamentale con la serie è proprio che Dracula la suora qualsiasi personaggio a un certo punto diventa Sherlock e capisco che proprio il duo ideatore creatore di tutto questo abbia questo modo di porsi abbia questo modo di vedere le cose tutto molto dialogico tutto estremamente portato all'eccesso con questo spirito super irriverente e lo capisco ma battezza un personaggio così il resto lo devi trasformare invece tutti i personaggi erano un po' Sherlock tutti i personaggi avevano quella chiave di lettura e soprattutto è una chiave di lettura anche dei personaggi che se su Sherlock io l'ho amata perché chiaramente era una rivisitazione molto adattata anche ai tempi moderni e anche interessante da vedere perché era una novità ecco riproposta così era semplicemente una copia di una cosa che era già stata fatta e riproporla secondo me non era utile non era interessante perché mancava già l'elemento di novità e soprattutto diventa molto piatta tutta la storia diventa davvero boh non so a me per me è stato proprio pesante arriva a dei punti di picchi di ridicolo assurdo e soprattutto non credo nemmeno che Dracula sia il personaggio adatto in cui questa rivisitazione sia possibile cioè se mentre nel personaggio di Dracula in qualche modo ce lo posso anche vedere però bisogna che gli altri abbiano un tono decisamente diverso anche perché un Dracula con questa irreverenza e con questo protagonista mentre tendenzialmente sta più nell'ombra è un personaggio affascinante ma silente invece qua è proprio tamarrissimo vabbè ecco forse se su di lui in parte in qualche modo l'avrei potuto anche rivedere però vuol dire che gli altri li devi rendere completamente diversi devi dargli un taglio molto diverso invece tutto super piatto e questo non mi ha convinta neanche per sbaglio proprio neanche un po' e per me è un prodotto che non vi consiglio forse ve lo consiglio se non avete visto Sherlock e se non avete letto Dracula in quel caso ve lo consiglio se no in tutti gli altri vedete voi se volete buttare delle ore della vostra vita potete tranquillamente farlo e poi vado avanti perché ho visto anche AJ and the Queen sempre su Netflix che è una serie dove c'è RuPaul e io sono una mega fan di RuPaul Drug Race e quindi non potevo lasciarmela scappare io non riesco a vedere tutti i prodotti legati al mondo drag perché alcuni raggiungono quel livello di trash che è too much anche per me cioè la drug race è trash ma lo accetto è veramente crea dipendenza ma sui prodotti invece più elaborati come le mini serie eccetera io non riesco a vedere tutto perché non mi piace tutto cioè il mondo drag ha i suoi codici ha il suo modo di essere visto e percepito e anche proposto e non sempre funziona in tv infatti molte cose che avevo provato a vedere le ho poi abbandonate e comunque in ogni caso AJ and the Queen a me è piaciuto moltissimo però l'hanno cancellato quindi ve lo dico con queste premesse l'hanno appena cancellato ed è un peccato perché è una serie adorabile invece in questo caso RuPaul interpreta Ruby Red che lascia il lavoro perché vuole aprire il proprio club finalmente dopo anni di fatica riesce ad aprire il proprio club di drag e di spettacoli il problema è che il suo fidanzato ruba tutti i soldi e scappa e questo diventa una tragedia chiaramente e quindi Ruby Red si trova costretta a fare un tour per raccattare un po' di soldi anche in posti dove non si esibiva da anni perché ha una carriera già abbastanza affermata mentre si mette in macchina pronta a partire poco prima incontra AJ che è una ragazzina praticamente senza madre insomma la madre è stata arrestata un sacco di casini stanno succedendo che è da sola disperata e inizierà a intraprendere con Ruby la sua tournée perché si fa trovare lì e non vuole scendere e da lì inizieranno un po' le loro avventure tra l'altro inseguite proprio dall'ex di Ruby Red perché a un certo punto AJ decide che tutto il mondo deve sapere ciò che è successo a Ruby per potersi difendere contro qualcuno che a quanto pare lo fa in maniera seriale ovvero quello di accostarsi a drag eccetera un po' sfortunate rubargli tutti i soldi e poi scappare in questo caso chiaramente parte una serie di avventure super trash super assurde molto divertenti ma che toccano una serie di tematiche splendide e io l'ho veramente adorato per me è un prodotto super carino chiaramente è molto leggero chiaramente ha molto a che fare col mondo drag quindi se amate il mondo drag è chiaramente un prodotto che vi consiglio se non vi siete mai approcciati al mondo drag ecco questo forse è un po' too much però chiaramente affrontiamo tutte questioni legate all'omosessualità all'abbandono familiare la carriera delle drag anche alla disabilità all'essere una drag nera cosa vuol dire comunque il rapporto tra omosessualità e comunità con i suoi sottogeneri ci sono tante questioni legate proprio ai rapporti umani all'intessere dei rapporti umani e sull'identità di genere su chi ci sentiamo cosa siamo e come ci vogliamo esprimere e io l'ho adorata è davvero adorabile come serie è molto molto piacevole quindi insomma se volete qualcosa di leggero e se amate RuPaul guardate AJ and the Queen ok siamo verso l'addirittura più o meno di arrivo mancano ancora un po' di serie però resistete insieme a me allora prossima serie che ho visto è Titans 2 allora io in parere super unpopular la prima stagione di Titans mi era piaciuta moltissimo e Tamarra c'è un sacco di difetti chi se ne frega funziona secondo me molto più interessante rispetto a tante altre serie detto ciò Titans 2 no invece no in Titans 2 succede qualsiasi cosa viene buttato in mezzo tutto si decostruiscono i personaggi si butta nel cesso qualsiasi tipo di evoluzione del personaggio che avevamo fatto nella prima stagione e c'è dentro di tutto anche se con questi presupposti ci sono invece cose che a me sono piaciute molto ci sono alcuni rapporti alcuni personaggi nuovi che a me sono piaciuti molto però male cioè io spero e confido in una terza stagione che un po' risollevi le sorti di tutto ciò però la seconda veramente è stata durissima guardarla tutta e arrivare alla fine soprattutto perché vabbè a me piace molto il personaggio di Robin come Nightwing e qua hanno sprecato secondo me un'occasione però ci sono altri personaggi molto validi che come Young Titans funzionano e funzionavano in questo caso i giovani titani perdono un po' di pezzi poi non si capisce il legame con il gruppo fondamentale tante risoluzioni fondamentalmente potevano coincidere con chiamiamo Batman e Batman risolve ma non c'è mai non ci si arriva mai e poi a un certo punto arriva Batman e risolve però si capisce che è una cosa che è stata rallentata messa in avanti non lo so mi dispiace perché a me la prima non era dispiaciuta la seconda non funziona la base su cui poggia la storia è fondamentalmente quella di un punisher una sorta di punisher che arriva e vuole uccidere tutti i Titans e loro si devono difendere devono trovare modo di fermarlo per altre questioni però in tutto ciò si butta dentro la qualunque c'è dentro di tutto c'è il gruppo si frattura a un certo punto poi però bisogna ritornare che peccato allora io non so invece come parlarvi della prossima serie perché non riesco a risollevarmi e perché secondo me è veramente la serie migliore che Netflix abbia mai prodotto dall'inizio alla fine ed è Bojack ovviamente è uscita la fine della sesta stagione e io tutte le volte che le parlo finisco per piangere finisco per avere i brividi finisco per starci male perché io trovo che vabbè cioè non so come parlarvi della sesta stagione anche perché è la sesta quindi insomma vi parlerò di Bojack in generale e della sesta stagione vi dico solo cioè a un certo punto della sesta stagione c'è una scena tra Princess Caroline e Diane che per me vale tutta Bojack è magnifica è la cosa più bella vista in Bojack e in generale perché vedere Bojack Bojack è la serie che meglio riesce a rappresentare la salute mentale soprattutto la depressione nelle sue dimensioni sfaccettate nei suoi rapporti con l'esterno e soprattutto nei conflitti con se stesso il fatto di io penso davvero che sia forse il prodotto che meglio ci è riuscito e che sia mai stato creato perché veramente ha una delicatezza nel farlo che non traspare e soprattutto riesce a mostrarne le complessità mostrarne le difficoltà mostrarne proprio tutto tutto ciò che significa essere depressi e allo stesso tempo dover funzionare e allo stesso tempo avere dei rapporti e come questi rapporti siano allo stesso tempo la salvezza ma anche la complicazione della depressione e io vi invito a vedere Bojack per forza perché comunque non è una serie cupa cioè una serie che diventa cupa nelle sue risoluzioni ma è una serie super divertente è una serie assurda è una serie che appunto prende come protagonista un uomo cavallo cioè non c'è una persona classica eppure questa è la sua forza io trovo davvero che Bojack sia universale anche nell'esprimere i suoi messaggi c'è addirittura un'esplorazione di tante figure secondo me nella loro complessità molto importanti e tutti i personaggi di Bojack sono personaggi che rappresentano un po' tutti noi ma anche non solo cioè ho visto una delle migliori anche interpretazioni della sessualità ho visto una delle migliori interpretazioni sul senso di maternità in conflitto con il lavoro nella sua proprio componente quotidiana e niente raga guardate Bojack io non riesco più a parlarne dopo Bojack risolleviamo un attimo i toni perché qua è complessa la questione scusate ho veramente fatto super fatica ma è una serie che vederne la fine è stato anche proprio difficile decidere di vederla io e mio marito siamo mega fan della serie e non riuscivamo a deciderci di vederla perché sappiamo che avrebbe messo un punto a uno dei prodotti migliori di Netflix ed è sempre doloroso secondo me soprattutto perché è una serie che parla molto a me e non lo so è stata dura è stata durissima e ok andiamo avanti poi passiamo a cose molto più leggere infatti ho visto Lock and Key che è sempre su Netflix che a me è piaciuto moltissimo so che i fan della serie hanno avuto opinioni un po' contrastanti me ne rendo conto invece io che non ho mai letto i fumetti anzi li ho appena presi perché mi ha incuriosita molto l'ho adorata per me è stata una serie uno dei prodotti migliori di Netflix dell'ultimo periodo perché è fatta in maniera molto credibile è una serie che racconta di questa famiglia questo trio di fratelli che con la madre che si trasferisce dopo la morte del padre in una vecchia casa di famiglia un po' in maniera anche improvvisa repentita e inspiegabile e da qui scopriranno che in realtà il padre nascondeva molti segreti tra cui questo possedere delle chiavi delle chiavi che riescono a sbloccare delle porte e attraverso le porte sbloccare dei poteri e ogni chiave ha il suo potere particolare e i ragazzi man mano che ne vengono a conoscenza scoprono dei nuovi poteri il problema è che non ne hanno alcun tipo di conoscenza quindi alcuni sono chiaramente positivi altri invece hanno dei risvolti molto molto negativi entreranno poi in questa trama dove loro non riescono a distinguere i cattivi dai buoni quando si ritroveranno ovviamente sommersi da situazioni molto negative che li costringeranno a delle decisioni molto importanti e dovranno ovviamente farlo insieme perché solo insieme riusciranno a cavarsela e io l'ho trovata adorabile perché da un lato mi è piaciuto molto il sistema magico e secondo me per tutta la serie il mistero fondamentale rimane molto forte rimane preponderante non cede mai cioè questa sorta di mistero di sottofondo che noi dobbiamo seguire per capire perché c'è la magia perché ci sono queste chiavi cosa nascondeva il padre e soprattutto perché i ragazzi a un certo punto si trovano a dover difenderle e a doverle salvare rimane forte per tutto il tempo e soprattutto c'è questo incombere di questo personaggio chiaramente antagonista che vuole qualcosa da loro ma ci sono delle regole che vanno rispettate allora in questo caso secondo me il sistema magico e il mistero di sottofondo reggono tutto sono la cosa migliore di tutta la serie ed è per questo che per me è risultata molto affascinante perché anche a vederlo su schermo nonostante sia una serie teen tendenzialmente teen che io non amo per nulla anzi io odio tutto ciò che ha a che fare con teen drama eccetera eccetera perché non mi divertono non li capisco così invece qua l'ho trovato molto corretto anche i personaggi che so che è l'elemento più divisivo di tutto questo ambaradan in realtà a me sono piaciuti molto perché rappresentano esattamente dei personaggi della loro età un bambino che fa una serie di castronerie perché è un bambino chiaramente ragiona come un bambino fa gli errori di un bambino invece allo stesso modo i due personaggi adolescenti ovvero i fratelli del nostro protagonista si comportano da adolescenti quindi hanno pulsioni da un lato fanno un sacco di cagate dall'altro riescono a mettersi in situazioni dove loro sono ovviamente gli artefici delle proprie fortune delle proprie sfortune e a me questo aspetto è piaciuto molto anche perché sono tutti personaggi che non sono amabili non sono dei personaggi che fondamentalmente si apprezzano tantissimo e quindi a me questa cosa è piaciuta cioè non so perché è strano però le ho trovati molto reali le ho trovati molto quanto meno rassicuranti da questo punto di vista perché sappiamo che a quell'età lì nessuno di noi avrebbe fatto meglio di loro anzi questo secondo me è stato l'aspetto migliore comunque insomma io ho apprezzato molto mi è piaciuta mi ha divertito ci sono alcune cose che non funzionano benissimo però insomma sticazzi secondo me è una serie molto piacevole e io sono curiosa di vedere la prossima serie insomma adesso ho recuperato i fumetti so che hanno un tono molto cupo e so che rispetto alla serie cambia tutto molto drasticamente però rimango molto curiosa sia di leggerle che poi di vedere la seconda stagione io ve la consiglio se volete una serie fantasy leggera ma allo stesso tempo divertente un po' misteriosa che vi intrattenga con una serie di avventure io ve la suggerisco moltissimo se non l'avete ancora recuperata arriviamo alle ultime due serie dopo questa ho visto Hunters di Amazon Prime che è un po' la serie del momento l'hanno un po' vista tutti il protagonista Percy Jackson credo che lui fosse quello di Percy Jackson vabbè anyway a me è piaciuta la serie l'ho trovata comunque interessante è una serie che parla di proprio Hunters di Nazi Hunters in realtà ovvero questo gruppo che si viene a formare in una maniera molto poco legale di discendenti ebrei o ebrei stessi stati nei campi di concentramento che ricercano i migliaia e migliaia di nazisti che sono stati introdotti dal governo americano in america ma anche che sono riusciti con falsi documenti ad arrivare in america dopo la fine della guerra senza aver ovviamente affrontato alcun processo e ci troviamo a seguire la storia del nostro protagonista che vede morire la nonna dopo un agguato e da lì scopre tutto quello che la nonna stava combinando senza che lui ne sapesse niente ovvero la nonna era un ex detenuta in un campo di concentramento un ex vittima della Shoah che sta cercando i suoi persecutori e sta cercando i nazisti che proprio erano dentro il campo insieme a lei c'è una rete di amici e una rete di collaboratori che hanno vissuto esperienze molto simili alla sua e che hanno storie altrettanto tragiche che iniziano proprio ad ammazzare i nazisti è una serie violentissima cosa che io non mi aspettavo quindi ve lo dico se non vi piacciono le cose violente questa dà delle mazzate parecchio forti è una serie che comunque a me è intrattenuto molto anzi mi è piaciuta molto per alcuni versi tra l'altro uno dei pochi capitoli della storia legata comunque al nazismo che a me interessano perché ci sono già numerosi documentari eccetera che ripercorrono tutto il lavoro fatto da Simon Wiesenthal e vabbè insomma è uno dei miei pallini storici anche questo detto ciò perché moltissimi perché moltissimi dopo la guerra si rifugiarono in Sud America soprattutto in Argentina ma non solo e in America vengono proprio accolti dal governo tra cui una serie di scienziati che vengono proprio fatti entrare in America dal governo Truman con grande passione proprio per combattere nella guerra fredda quindi schierandosi al fianco degli Stati Uniti una serie di scienziati e personaggi loschi figure ovviamente che avevano contribuito al Reich vengono introdotti in America dal governo tra i vari episodi proprio l'allunaggio è stato reso possibile grazie anche al contributo di un nazista di cui ora non ricordo nome ma tanto morte ai nazi detto ciò insomma secondo me la serie è carina è piacevole ci sono due cose che secondo me potevano fare e non hanno fatto cioè hanno preso una strada dove non si vanno a non è episodica cioè questa è una serie che non diventa una serie episodica fondamentalmente ritrovano un nazista lo ammazzano e vanno avanti puntata successiva si va sul prossimo e vanno avanti cioè una serie che mescola un pochino questi aspetti e per la durata un po' della serie visto che non è una durata episodica io avrei tagliato un po' di puntate diventa un po' lunga e pesante alla fine soprattutto vista la risoluzione e allo stesso tempo proprio per la lunghezza della narrazione avrei puntato di più su una narrazione di episodi che comunque è una struttura un po' più classica della serie televisiva ma comunque secondo me funziona benissimo in questo ambito e con questo tipo di tema però insomma è una serie che comunque intrattiene nonostante la tematica intrattiene nonostante la violenza che qua abbonda in una maniera proprio non si risparmiano nulla e comunque insomma a me è piaciuta molto io ve la suggerisco finale un po' plot twist mega giga un po' prevedibile secondo me però comunque io sono curiosa di vedere anche la prossima stagione quindi insomma io mi sento di consigliarvela se volete vedere qualcosa di nuovo è una serie che comunque ha ovviamente ha a che fare in una maniera anche molto sprezzante ironica però vissuta in prima persona proprio dal popolo afflitto di tematiche che in realtà non è che siano poi così divertenti e dissacranti e loro lo rendono sempre con questo tono invece come se si riappropriassero della propria storia a me questo aspetto è piaciuto molto insomma anche questo volere riappropriarsi della propria storia secondo me è comunque pregevole a me è piaciuto molto arriviamo all'ultima serie che è la seconda stagione dell'amica geniale e io su questa mi soffermerò un attimino per concludere un po' questo video allora innanzitutto io ho letto solo il primo e il secondo dell'amica geniale poi mi ero un po' stufata detto ciò io trovo che i libri riescano moltissimo a trasmettere al lettore due personaggi così sfaccettati complessi multidimensionali come sono Lila e Lenu e infatti in alcuni versi soprattutto nel primo noi riusciamo un po' a identificarci un po' con Lila un po' con Lenu nel mio caso molto con Lila per una serie di questioni che insomma non stiamo ad affrontare e chiaramente sono legati a storie comuni e allo stesso tempo anche nel secondo io spesso mi ritrovavo un pochino nei panni di Lila poi alcune cose che dice che fa io mi trovo molto in Lila però anche in Lenu perché un po' è quello che vede il lettore il lettore riesce un po' a vedere tantissimi pregi tantissimi difetti dei personaggi che sono tutto tranne che personaggi chiaramente sempre buoni sempre affidabili sempre perfetti anzi sono personaggi che rappresentano l'umanità rappresentano ciò che siamo anche noi non siamo perfetti siamo pieni di difetti facciamo un sacco di cose sbagliate spesso ci sentiamo impotenti non riusciamo ad agire come vorremmo e quindi insomma l'umanità è complessa e questi personaggi sono così amati e insomma tutti si identificano moltissimo in loro proprio perché hanno molto a che fare con noi quindi insomma premessa la prima stagione a me era piaciuta molto perché l'ho trovata super rispettosa del romanzo e allo stesso tempo riusciva a trasmetterne sia la dimensione del rione sia la dimensione della complessità del personaggio sia tutti questi attritti sociali che è ciò che evidenzia fondamentalmente la morante no scusatevi la ferrante riprendendo la morante e vabbè in questa seconda stagione all'inizio cioè da un lato ho apprezzato molto alcune cose però mi continuava a chiedere cos'è che a me non aveva convinto e perché a me venisse voglia di urlare ogni volta che Lenù compariva in tv cioè era veramente io so che è amatissima e per questo mi faceva strano però ve lo giuro che anche ripensando un po' al libro inizialmente ho detto boh io non me la ricordavo così negativa cioè negativa sì ma non del tutto ma in tv mi veniva voglia di urlare cioè lei apriva bocca e io volevo strappare lo schermo quindi alla fine ripercorrendo un po' questa stagione mi ha convinta molto meno nonostante sia bellissima esteticamente una ricostruzione pazzesca come nel primo e in questo hanno fatto un ottimo lavoro dal punto di vista della regia secondo me è molto apprezzabile bello riesce a non risultare una fiction riesce a essere un prodotto contemporaneo che racconta comunque dell'Italia degli anni 50 60 e 70 cioè molto bene alcune cose però allora la serie pecca di tanti difetti secondo me soprattutto nei personaggi il primo è che in generale tutto il libro scusate tutta la serie è dedicata agli uomini e non che sia sbagliato però gli uomini prendono e assumono delle caratteristiche molto più rotonde sono coloro che dettano tutta la trama tutta la narrazione gira attorno a loro e questo secondo me già si distacca un pochino dal senso del romanzo in più proprio perché le nostre protagoniste sono molto poco apprezzabili più che nel romanzo perché nel romanzo secondo me noi capiamo le loro motivazioni e noi ne capiamo bene le sfaccettature quindi per questo ci ritroviamo in loro ecco in questa seconda stagione loro diventano soprattutto insfangabili cioè diventano personaggi che tu vorresti prendere e sbattere contro il muro nonostante le cose tragiche nel caso di Lila e anche un po' l'immobilismo di Lenù che capiamo fino a un certo punto nel mio parere però in questa stagione i personaggi femminili sono scritti male io su questo non sono irremovibile perché perché prima di tutto continuavo a pensare cioè perché prima di tutto proprio anche nel loro rapporto con uomini uomini che sono violenti con loro come Stefano uomini che le trattano malissimo uomini che si prendono gioco di loro uomini che le portano all'esasperazione eccetera eccetera e in questo caso tu spettatore trovi sempre delle giustificazioni per gli uomini e questo è sbagliato perché secondo me vuol dire che non sono riusciti a trasmettere per bene il tipo di personaggio cioè nel caso di Lila quando viene menata a un certo punto da spettatore ti trovi un po' nella posizione di dire beh a fine anche io gli avrei date due pizze e questo è sbagliato questo è completamente sbagliato vuol dire che il senso del personaggio e il senso della sua storia è stato stravolto nei confronti di Lenù Lenù è completamente una meba inutile che non parla non dice mai quello che prova poi però tu devi provare pietà per lei perché lei vuole suscitare pietà vuole essere la vittima lei è anche la vittima dell'amica in realtà no perché non è così e secondo me rispetto al libro che invece riesce a trasmetterti questa sorta di sì siamo personaggi complessi personaggi non perfettamente amabili ma almeno riconosci una dignità nel personaggio e per questo cioè a ogni mano alzata sei categoricamente contrario a ciò che sta succedendo invece nella serie tv c'è sempre questo limbo un po' dove alla fine dici boh sai che c'è che un po' due pizze le avrei tirate pure io anche il fatto che Nino Sarratore sia un personaggio molto bello e quindi capisci un po' questo perdere la testa di entrambe però entrambe che non riescono a gestire la situazione cioè insomma male male soprattutto perché davvero gli uomini acquisiscono un'autorevolezza nella serie che secondo me non hanno nel libro e non meritano peraltro perché Nino è una persona che comunque non è una persona così piacevole che non sbaglia nulla e quindi poi alla fine è così cioè Nino è subdolo Stefano è un violento è un violento che chiaramente viene esasperato dall'atteggiamento di Lila ma ciò non significa e non giustifica chiaramente la violenza e invece un po' nella serie tv ti fa quasi capire che sì dai insomma lo capiamo no non funziona così male e un po' anche le situazioni familiari insomma sono meno lucide meno chiare che nel romanzo e questo davvero all'inizio l'avevo apprezzata molto poi devo dire che ripensandoci ho capito perché volevo urlare contro Lenù e non è colpa di Lenù il personaggio dei libri è Lenù rappresentata su schermo non è nemmeno colpa delle attrici che sono bravissime secondo me il problema è proprio come è stato scritto il personaggio soprattutto di Lenù io Lila purtroppo c'ho un debole perché soprattutto quando nella seconda stagione si mette a urlare fascisti di man io lì proprio ho rivisto me stessa e cioè insomma mi rivedo moltissime in lei quindi ho proprio un'affezione tranne per la genialità che io non ho però mi rivedo molto nell'atteggiamento nelle sfighe e nelle situazioni di vita quindi purtroppo ho proprio un debole per Lila allo stesso tempo Lenù secondo me ha scritto molto male ma come ha scritto male Lila alla fine cioè sembra pazza e basta in realtà non è pazza e basta cioè io penso sempre che la rabbia deriva da qualcosa non c'è mai nessuna motivazione che ti porta ad essere arrabbiata ed è il sentimento che più rispetto di tutti e quindi insomma ci tenevo un pochino a sollevare anche qualche critica una serie invece amatissima sì bella per alcune parti poi io non ho grande affezione per la serie perché purtroppo ho dei limiti personali trovo che siano libri scritti molto bene personaggi indagati benissimo e che tutte le diciamo tematiche che vuole affrontare la ferrante sono esposte in maniera impeccabile non avendo questo grande legame con la serie però sia serie di libri guardando la serie tv mi sono sempre più resa conto dei difetti della serie tv che comunque riesce in tante cose non riesce a trasmettere invece la multidimensionalità che invece il libro ha e questo secondo me è un'occasione sprecata perché ne distorce proprio il senso di alcuni personaggi e ho sentito moltissime che dicevano ah ma Lila come una pazza un po' le avrei date anch'io un po' dicevo che aveva ragione a picchiare cioè no non deve essere non può essere questo risvolto di due personaggi del genere quindi penso che sia proprio colpa della serie tv va bene comunque insomma oh siamo arrivati alla fine di questo video che sto rimandando da un sacco di tempo perché già mi sembrava lungo prima di aver visto queste ultime cose quindi figuratevi ora niente io insomma spero di aver dato anche qualche suggerimento a voi per intraprendere un po' qualche visione nelle prossime settimane insomma queste sono le ultime cose che io ho visto che trovo molto interessante e alcuni bene alcuni male alcuni molto bene alcuni molto male ma è ovvio e niente comunque insomma fatemi sapere se tra queste serie che avete visto avete dei pareri insomma simili ai miei se pensate esattamente l'opposto e insomma se consigliate qualche serie uscita ultimamente mi raccomando ultimamente io vedo tantissime serie quindi per me la difficoltà è trovare serie che non ho visto comunque se avete suggerimenti ci sentiamo giù nell'infobox detto ciò io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia anche oggi spero che insomma questo video vi sia piaciuto mettete un pollicino in alto mi raccomando e per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao ciao